20 15 10 5 4 3 2 1 vai lastra 4 tieni subito tornante sinistro 20 sinistra 4 piena in destra 4 piena 20 ritarda sinistra 2 tieni subito tornante destro 20 ritarda destra 3 in piega sinistra 20 destra 5 veloce tieni per sinistra 3 chiude 20 ritarda destra 2 20 sinistra 3 meno corta subito destra 2 in sinistra 3 per sinistra 3 meno lunga 30 piega destra in sinistra 5 meno 20 piega sinistra per destra 4 meno lunga occhio in piega sinistra piena 20 ritarda sinistra 3 in piega destra 50 sinistra vista ritarda destra 2 veloce scivola in sinistra 2 20 ritarda destra 2 veloce non tagliare 20 piega sinistra e destra subito tornante sinistro 20 piega sinistra per piega destra lunga per sinistra 4 tieni subito tornantone destro scivola scivola per destra 4 in sinistra 4 lascia diventa sinistra 2 50 vista fine muro ritarda destra 2 40 dopo il cartello sinistra 4 meno tieni occhio in destra 2 in sinistra 2 non tagliare in destra 2 veloce 30 sinistri destra 4 veloce in sinistra 4 meno per sinistra 4 veloce è la sinistra lunga per piega sinistra tieni in destra 4 meno veloce sale 20 ritarda sinistra 2 veloce tieni occhio bivio tieni la 2 50 piega sinistra per destra 5 veloce buco in piega sinistra diventa le case sinistra 4 4 occhio 20 destra 4 veloce 30 ritarda corda bene tornante sinistro 40 alla legna destra 4 veloce 30 destra 4 ancora 30 corda bene destra 3 meno 3 meno 50 piega sinistra a rosso diventa sinistra 4 meno per destra 4 lascia occhio sporco esterno subito destra 3 stupida sale diventa 4 veloce 20 sconnessi ritarda corda bene tornante sinistro 80 vista ritarda staccata tornantone sinistro 20 destra 2 meno lunga chiude non tagliare 30 piega sinistra per sinistra 5 meno occhio in destra 4 in piega sinistra e destra 30 a rosso destra 4 20 ritarda sinistra 2 meno 20 destra 4 veloce lascia non tagliare per destra 3 meno veloce lunga 30 stai destra ritarda sinistra 2 veloce buco 30 piega destra lunga occhio diventa inversione destra leva piega sinistra lunga 2 tempi 20 sinistri per destra 2 tonda destra 2 tonda laggiù 20 sinistra 2 veloce 30 sinistri stai a sinistra per destra 2 veloce 2 in piega sinistra piena non tagliare 40 sinistri per piega destra per sinistra 3 veloce lunga lunga scende 3 lunga lunga scende 20 destra 2 veloce in sinistra 3 veloce in piega destra 80 sinistri per piega sinistra scende stacca in destra 3 veloce 3 veloce occhio qua occhio 20 piega sinistra piena sale 20 piega sinistra piena e piega destra sinistra piena 50 piega sinistra per destra 3 veloce occhio destra 3 veloce occhio 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 alle staccate qua in sinistra 3 veloce 30 destra 6 30 ritardo a sinistra 2 veloce ritardo a 2 veloce 20 stai a sinistra occhio a questa eh guarda bene destra 3 sudosso occhio interno occhio a questa 30 sfiora destra 6 20 al cartello sinistra 3 meno occhio 3 meno occhio diventa non forzare se staccate piega a sinistra in destra 2 veloce lascia 50 sinistri a vista sinistra 3 meno lunga occhio 3 meno lunga occhio 20 destra 5 inganna 20 sinistra 4 meno tieni 20 e destra 2 2 per sinistra 2 meno veloce diventa 4 40 a vista ritardo a corda bene destra 4 veloce 50 occhio chicane entri a destra occhio chicane entri a destra destra 3 veloce piena 80 sinistra 4 veloce 30 destra 4 meno occhio per destra 3 occhio per destra 3 in sinistra 3 veloce per piega destra tieni subito tornante sinistro 20 piega destra diventa tornante destro per sinistra 3 in destra 3 non tagliare in sinistra 4 meno diventa 5 piena 20 destra 2 destra 2 veloce in fondo per piega sinistra in destra 4 veloce lascia 50 là in fondo destra 2 meno 2 meno in sinistra 3 lascia 20 destra 4 lunga occhio occhio lunga per sinistra 2 20 destra 4 meno corta 20 e sinistra 2 2 in piega destra in sinistra 4 veloce 40 destri diventa a destra 3 meno 3 meno 20 sinistra 4 in piega destra subito tornante sinistro aiutati per destra 2 veloce per sinistra 5 diventa 4 tieni subito tornante destro per destra 4 veloce 20 ritarda sinistra 2 meno 2 meno per piega destra tieni subito tornante sinistro per destra 2 meno occhio per piega sinistra 30 destra 4 veloce stretta sinistra 4 lunga corda bene dopo ora il sinistro diventa 2 occhio no 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 porca puntana buono buono danni diventa 2 pietra stai sinistra tornante destro chiude pulito mi galleggia troppo dietro la piega sinistra è piena vai ok buono abbiamo salvato dai io cane crediamo che era una merda quella curva lì io porco non 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 Grazie a tutti.